La Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna di primo grado per il sindaco di Rofrano, Nicola Cammarano, per detenzione di materiale pedopornografico sul PC. Il Tribunale di Vallo della Lucania nel 2018 aveva condannato in primo grado il sindaco ad un anno di carcere, pena sospesa e a un'ammenda di 2.000 euro. I fatti risalgono al febbraio del 2015, quando la Guardia di Finanza, dopo dei controlli nello studio da commercialista del sindaco, allargati poi alla sua abitazione, mise agli arresti il primo cittadino con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Su un computer a lui in uso, infatti, secondo quanto emerso nel corso degli accertamenti all'interno del suo studio, vennero ritrovati file compromettenti riguardanti minori. Ad aprile del 2016 si aprì il processo, Cammarano si è sempre professato innocente, ora la condanna anche in secondo grado. Durante il processo di appello, grazie ad una nuova perizia eseguita sui file rinvenuti sul PC del primo cittadino, sarebbero emersi nuovi elementi. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado si leggeva che risulta, senza altro singolare, pertanto non credibile, che da una navigazione su comuni siti porno possano aprirsi del tutto involontariamente. E' così agevolmente oltre 500 siti di natura pedopornografica e che, altrettanto casualmente, sia confluito sul computer dell'imputato un file contenente circa 800 immagini di carattere pedopornografico. Per l'eventuale ricorso in Cassazione occorrerà attendere le motivazioni dell'appello. Per l'eventuale ricorso in Cassazione occorrerà attendere le motivazioni di carattere pedopornografico.